Tutti hanno condiviso la necessità di dare un grande impulso per la realizzazione della rete unica, fibra ottica. In questi mesi abbiamo toccato con mano il divario digitale. Siamo passati improvvisamente, non eravamo preparati alla didattica a distanza. Siamo passati improvvisamente, non eravamo preparati allo smart working. Dobbiamo quindi adesso colmare questo divario digitale, dobbiamo rendere accessibili a tutti, con poco costo, a tutti i cittadini, l'accesso a internet.